Ben ritrovati su MyPersonalTrainerTV. Con questo video proseguiamo il nostro percorso conoscitivo sulla sifilide. Nella precedente lezione abbiamo già descritto gli aspetti generali della malattia, che prima di proseguire vi riassumo brevemente. Innanzitutto abbiamo visto che la sifilide è una grave malattia infettiva dovuta all'introduzione nell'organismo di un batterio chiamato treponema pallidum. La sifilide si trasmette principalmente attraverso i rapporti sessuali e per contatto diretto con le lesioni infette. Inoltre una madre colpita dalla sifilide può trasmetterla al feto durante la gravidanza oppure al momento del parto. Abbiamo inoltre anticipato che la malattia è un decorso molto lungo, soddiviso in vari stadi che in assenza di trattamento diventano via via più gravi, fino a danneggiare gravemente il sistema nervoso. Fatta questa doverosa premessa, nel corso del video approfondiremo i sintomi della sifilide e le possibilità di diagnosi e trattamento. Il decorso della sifilide è ripartito in tre diverse fasi. È possibile quindi distinguere una sifilide primaria, una sifilide secondaria ed una terziaria. Partiamo dalla sifilide primaria, che corrisponde appunto allo stadio iniziale dell'infezione. Ebbene, dopo circa tre o quattro settimane dal contagio, proprio nel punto in cui ha fatto il suo ingresso il treponema pallidum, compare una lesione chiamata sifiloma. Questo segno iniziale, come vediamo nella diapositiva, è simile ad un nodulo dalla forma tonneggiante, ben circoscritto, di grandezza variabile, ma soprattutto non doloroso, quindi non fa male. Presto la superficie del nodulo si erode e si ulcera, esponendo un fondo di colore rosso vivo, dal quale fuoriesce un essudato sieroso, quindi una sorta di liquido in cui sono contenuti i batteri responsabili della sifilide. Nell'uomo il sifiloma compare più frequentemente a livello del solcobalano prepuziale, quindi tra i glande del prepuzio. Nella donna, invece, può insorgere sulla cervice, oppure sulla vulva o ancora sulla vagina. Inoltre, in entrambi i sessi il sifiloma può comparire anche in sede anorettale, oppure all'interno del cavo orale, quindi su labbra, gengive, faringe, quindi nella gola oppure nella lingua. La sede di comparsa del sifiloma corrisponde infatti al punto in cui è venuto il contagio e la conseguente penetrazione del batterio. Dopo circa una settimana dalla comparsa del sifiloma si manifesta un altro segno tipico della sifilide primaria, che è rappresentato dall'ingrossamento dei linfonodi. I sintomi del primo stadio della sifilide tendono poi a scomparire dopo 4-6 settimane, anche in assenza di trattamento. Inoltre, questi sintomi possono passare inosservati, soprattutto quando le lesioni sono molto piccole o nascoste e il soggetto quindi non se ne accorge. Questa regressione dei sintomi e delle lesioni o addirittura la loro assenza, cioè il soggetto non se ne accorge, non deve però trarre un inganno, poiché la malattia e la sua trasmissibilità permangono ugualmente. Quindi il soggetto può trasmettere la sifilide ad altre persone. La fase successiva della sifilide, quindi dalla primaria passiamo alla fase secondaria, inizia dopo 3 o 6 settimane dalla comparsa del sifiloma. Questa fase è caratterizzata da manifestazioni sistemiche dovute alla proliferazione del triponema e alla sua diffusione nell'organismo per via ematica, quindi attraverso il sangue oppure linfattica, attraverso la linfa. Anche per questo motivo la sifilide secondaria è tipicamente accompagnata da sintomi simili influenzali, quindi da febbre, astenia, debolezza, cefalea e malessere generale. Oltre a questi sintomi, quelli più importanti della sifilide secondaria si manifestano a livello delle acute, delle mucose e degli annessi. In particolare compare un'eruzione cutanea generalizzata, che può avere un aspetto molto variabile, spesso è asintomatica oppure altre volte associata ad un lieve prurito. Ad esempio possono insorgere delle piccole macchie rotondeggianti diffuse che ricordano le eruzioni tipiche del morbillo. Anche queste manifestazioni scompaiono poi spontaneamente dopo qualche settimana. Il paziente dopo la regressione della fase secondaria entra in un lungo periodo di latenza che può durare mesi o addirittura per degli anni. Durante questo periodo il paziente non presenta sintomi, tuttavia l'infezione e la contagiosità permangono. Al termine di questa calma apparente il treponema si riattiva e può provocare danni permanenti a cervello, ossa, pelle e ad altri organi. A questo punto la sifilide è entrata a pieno titolo nella fase terziaria che oggi fortunatamente è divenuta rarissima. Nella sifilide terziaria le manifestazioni di maggior rilievo sono quelle a carico del sistema nervoso centrale, quindi del cervello del midollo spinale, con alterazioni degenerative del tessuto nervoso, sia appunto del cervello che a livello del midollo spinale. Nella cosiddetta neurosifilide la degenerazione progressiva può provocare alterazioni della personalità fino alla demenza, alla pazzia e all'incapacità di controllare i movimenti muscolari fino alle paralisi. Il danno può essere tanto serio da portare addirittura alla morte del paziente. A questo punto voglio aprire una piccola parentesi anche relativa alla sifilide congenita e alle conseguenze che può provocare. Abbiamo visto più volte che la sifilide può essere contratta durante la gravidanza per passaggio dei batteri attraverso la placenta. In questo caso l'infezione non comporta alcuna lesione primaria perché la diffusione dei treponemi avviene per via ematogena, cioè attraverso il sangue. Quando invece il bambino è infettato durante il passaggio lungo il canale del parto, quindi al momento del parto, il processo è più simile a quello che abbiamo appena descritto per la sifilide acquisita. Per quanto riguarda invece le conseguenze della sifilide sul feto o sul neonato, c'è da sottolineare che la forma congenita può determinare delle malformazioni o altri problemi molto gravi, come eruzioni bollose sull'acute, ma anche polmonite, cecità o addirittura degli aborti. Ora andiamo a vedere brevemente come può essere diagnosticata la sifilide. Da quanto avrete capito, la malattia non è particolarmente semplice da diagnosticare clinicamente, poiché tra una fase e l'altra i sintomi tendono appunto a regredire. Il sospetto della malattia potrebbe essere guidato dall'insieme di sintomi riferiti dal paziente. Tuttavia non è sempre facile accorgersi di aver contratto la sifilide, vuoi per l'assenza di sintomi di rilievo, vuoi perché le lesioni possono comparire in sedi nascoste, quindi non facilmente visibili. Inoltre può capitare che alcuni sintomi della sifilide vengano scambiati per altri sintomi di malattie meno gravi, ritardando così il trattamento. La diagnosi può essere confermata dalla ricerca dei treponemi nell'essudato e dalla positività a specifici test sierologici, quindi tramite specifici esami del sangue. Il treponema pallidum si evidenzia attraverso l'osservazione microscopica in campo oscuro. In pratica si va a strisciare su un vetrino il secreto prelevato da un sifiloma e lo si guarda fresco. In questo modo il treponema può essere identificato per la sua tipica forma adelica. Inoltre appare anche tipicamente brillante e mobile quando osservato su uno sfondo oscuro. Oltre che con l'analisi al microscopio, la presenza del batterio nel sangue può essere evidenziata con un test sierologico. Mi spiego meglio. A partire dal contagio il treponema comincia chiaramente ad entrare nel circolo ematico, quindi nel sangue, ed i test sierologici sono dunque volti a rilevare l'eventuale presenza di anticorpi diretti contro il batterio già nelle fasi precoci dell'infezione. Tramite questa analisi sarà possibile capire se è stata contratta oppure no la sifilide, ma anche in quale stadio si trova il paziente, così da iniziare il trattamento più adeguato. Proprio a proposito di trattamento, la terapia antibiotica di elezione per il trattamento della sifilide è a base di penicillina, un antibiotico molto antico. Solo nei pazienti allergici a questo principio attivo si ricorre ad altri farmaci, come ad esempio la doxiciclina oppure la tetraciclina. Il medico si baserà sullo stadio della malattia per stabilire il corretto dosaggio del farmaco e la durata del trattamento. E' importante sottolineare come la terapia sia chiaramente più efficace se iniziata negli stadi precoci della malattia. Infatti i farmaci non permettono di rimediare ad eventuali danni d'organo verificatisi a carico appunto dei vari organi negli stadi più avanzati della malattia. Naturalmente è necessario effettuare dei test diagnostici e il trattamento va esteso anche ai partner sessuali del paziente. Non solo, per evitare di contagiare il proprio partner è obbligatoria l'astinenza da qualsiasi tipologia di rapporto sessuale e questo almeno fino alla completa guarigione dalle lesioni causate dalla sifilide. Deve sempre essere tenuta mente che le ferite e le ulcere cutanee possono trasmettere l'infezione anche durante il sesso orale o qualunque altro contatto cutaneo con le zone infette. Infine va ricordato che una volta guariti non si diventa immuni nei confronti di successive infezioni. Questo significa che è possibile contrarre nuovamente la sifilide dopo essere guariti. Prima di concludere c'è ancora un'importantissima considerazione da fare. Chi ha la sifilide infatti rischia maggiormente di essere contagiato dall'HIV, virus responsabile della tristemente nota IDS perché le lesioni cutanee rappresentano una porta d'ingresso preferenziale per il virus. Come abbiamo ripetuto più volte la sifilide come del resto altre malattie sessualmente trasmissibili può essere trasmessa da un partner infetto all'altro durante l'atto sessuale. È quindi chiaro come una buona misura di prevenzione sia rappresentata dall'uso corretto del preservativo durante rapporti sessuali di qualsiasi natura, incluso ad esempio lo scambio di giocattoli erotici. Bene, con questo ho davvero concluso. Mi auguro che la lezione sia stata di vostro gradimento e di avervi presto ancora qui su My Personal Trainer TV per parlare di salute.